Ciao ragazze, allora questo è il video per il giveaway molti di voi lo sapranno perché l'ho scritto su facebook in paglio per il giveaway c'è la palette di correttori quella che ho recensito è l'ultimo video, questa qua una così, non proprio lei ovviamente perché è usata una nuova viene messa in paglio dal venditore Sedona Lace e per partecipare dovrete commentare questo video ok? commenti un commento a testa come tempo ricordiamo che il video dovranno guardarlo un po' tutte quindi 24 maggio magari una settimana può bastare 24 maggio e 31 maggio diciamo che avete tempo fino a mezzanotte del 31 maggio dopo di che dopo di che non potrete ovviamente più partecipare al giveaway sarà chiuso e io farò l'estrazione con random.org e e niente poi ovviamente dirò il nome della vincitrice con un video questa persona questa persona mi dovrà dare poi i suoi dati quindi nome, cognome, indirizzo passerò questi dati al venditore e poi il venditore vi spedirà la palette a casa e basta penso di avervi detto tutto un commento a testa tempo fino a mezzanotte del 31 maggio e basta niente ok ci vediamo la prossima volta buona fortuna a tutte ciao